Uomo del parcheggio, misterioso e labile Che cosa è successo? È successa questa roba, che RK Frenesi ha festeggiato i 10.000 abbonati RK Frenesi ha fatto questa maratona dove ha cercato di arrivare all'obiettivo di 10.000 abbonati cioè riuscite quindi complimenti a RK Frenesi però nel ringraziare i abbonati di questo suo sicuramente pregevole traguardo sono stati tirati fuori degli argomenti che mi interessano molto e Diego, Dada, ha fatto una reaction al RK Frenesi esprimendo la sua opinione ed è stato attaccato per questo gli è stato dato del rosicone, perché lui l'ha fatti e te no eccetera eccetera dato che io posso permettermi di non rosicare ho deciso di dire alla mia e dato che mi trovo d'accordo con Diego non proprio su tutto e su alcuni modi però, ma dato che mi trovo con la sua opinione e siamo molto vicini per quanto riguarda l'idea di vivere il web e di vivere la salute mentale qua sul web mi piacerebbe dire anche la mia e esprimere un parere su un argomento che mi ha sempre toccato ovvero il discorso dei sub, il discorso dei numeri sono cose in cui mi piace molto ficcarmi perché penso che sensibilizzare il pubblico e le community su questo argomento possa essere prezioso in un momento dove tutti anche l'uomo della strada l'uomo che semplicemente ha l'Instagram per postare le foto dei figli, delle vacanze, della ragazza delle collezioni eccetera è un po' assorbito, è un po' dipendente dai numeri ed è sempre più così non sapete ragazzi quante volte mi capita di essere fermato da dei ragazzi di solito di 15, 16, 17, 18 anni che quando non mi conoscono mi dicono ah ma te fai lo streamer, quanti soldi fai? quanti abbonati hai? quanti follower hai su Instagram? e secondo me questa roba può diventare veramente pericolosissima e quindi è giusto parlarne faccio la reaction dalla reaction, lo solito è stronzata però prometto di fare il bimbo bravo e di parlare seriamente come mi piace tanto a voi tra l'altro secondo me Diego non so chi te l'ha montato questo video però Dada Blast a frenesi è un po' troppo a chiappa visite perché non lo blasti in realtà l'ho già vista questa roba però vabbè sentendo che stava dicendo prima possiamo continuare ad ascoltare il discorso vabbè non era un problema allora aspetta facciamo una roba guardiamo proprio il video originale qual è? come si chiama il video originale? 10.000 sub e fa un discorso molto serio con la sua community ok mettiamo solo questo credo che basti e fa un discorso molto serio con un articolo di giornale con la sua community eccolo! l'abbiamo trovato discorso serio oh! benissimo muto un attimo gli alert perché sennò non riesco a parlare a parte da qui vedete vorrei levarmi gli occhiali che mi stanno scendendo là che mi però non darò questa soddisfazione di vedermi troppo emozionato ok molto emozionato perché? l'unica critica costruttiva che ti posso fare frene la prossima volta che fai un discorso di questo tipo emozionato eccetera se tu potessi togliere la tazza del cesso intorno alla al collo secondo me potrebbe funzionare un po' di più il discorso serio così a naso però magari non lo so magari sto a dinacazzata però prova se puoi fare questa tentativa la prossima volta perché ti auguriamo questi altri 10.000 no schibi di frene fa benissimo però insomma vai andiamo avanti sono stato molto accostato ok raggiunto 10.000 sub perché facevi casi no quando in realtà feci una maratona di una settimana dormendo due ore a notte e chi era in stream all'epoca si ricorda penso che sono stato l'unico al mondo a fare una maratona di una settimana dove dormivo in stream due ore e mettevo la sveglia alle 10 di mattina andavo a dormire alle 8 di mattina unico al mondo non lo so però va bene sono passati due anni dopo che è successa sta bellissima cosa dei 10.000 sub a distanza di due anni e mezzo il sottoscritto a fine luglio dopo un anno e mezzo di merda perché ho passato un anno e mezzo infernale tra relazioni tossiche e problemi di roba burocratica che non sto qui a raccontarvi perché comunque so cose che neanche potrei dirvi che mi hanno portato a deprimermi a vivere per un mese dentro una struttura perché avevo dei problemi forti alla testa i classici disturbi alla testa ma molto più intensi dove l'unica cosa che speravo di fare era non svegliarmi la mattina dove non avevo il coraggio di farla finita e di porre fine alla mia vita perché questo non si scherza non è questo comunque il discorso che voglio fare questo discorso è rispettabilissimo e non c'è da dirci non c'ho da dire niente insomma ci mancherebbe due persone anziane di 84 e 91 anni che mi hanno cresciuto che sarebbero i miei nonni dove comunque ho una madre o una sorella a cui voglio bene e quindi tutto questo mi ha portato a non non fare determinate cose io il 29 marzo di quest'anno io scrivevo senza farvela troppo breve perché non voglio mettere tristezza a nessuno però è per spiegarvi un attimo quello che è quella che è stata la mia situazione in generale io il 29 marzo 2024 io scrivevo questo ok scrivo questa roba qui si frenerò questi sono veramente argomenti importanti io ti voglio prendere e ti sto prendendo sul serio però porca puttana levati quella roba non si può e la terrà per tutto il video ok perché l'unico pensiero che avevo era quello di uccidermi ok quindi poi non so come non so perché probabilmente derivante dal fatto che ne ho passato oggettivamente tante poi sono sicuro che ci sono persone che hanno sofferto più di me nella vita non è una gara che soffri di più ma semplicemente sto parlando della mia storia e non voglio impietosire impietosire va bene va benissimo semplicemente in un momento così bello voglio anche condividervi quello che è stato brutto quello che ha portato a questo dopo questi messaggi che scrivevo dopo vari momenti brutti una miriade di merda che ho ricevuto non sui social anzi voi siete stati sempre fin troppo buoni con me parlo proprio nella vita quando è stato a giugno mi guardo allo specchio e dico quale cose so due o smetto completamente sto lavoro non perché non mi piace ma perché comunque la costanza nei lavori soprattutto nei social è la cosa che ripaga di più e questo è è una cosa purtroppo cioè purtroppo per fortuna che è indiscutibile ecco qui iniziamo già con il primo punto che poi ovviamente si si porterà avanti anzi porterà avanti il buon freno in questo video io su questo avrei qualcosa da ridire non è non premia solo la costanza secondo me è una è una grande tara tra una buona costanza ma non un'ossessione una buona costanza e la qualità dei contenuti o la qualità della performance in live però approfondirò questo discorso probabilmente più avanti anche giusta che uno sia costante e venga ripagato o mi metto a fa altro e esatto sono d'accordo con Enk condizione necessaria ma non sufficiente traslogo faccio un traslogo qui cerco di cambiare vita e mi rendo conto che non posso cambiarla ancora perché mi sono ritrovato no però per raggiungere un certo status serve un po' di costanza Paolo l'ho appena detto l'ho appena detto ho detto ci vuole un po' di costanza ma non ossessione perché spesso su questa piattaforma e non solo si confonde la costanza con l'ossessione perché fare live 12 ore al giorno tutti i giorni per tutto l'anno è ossessione fare live magari tutti i giorni però 4-5-6 ore al giorno magari con una pausetta nel fine settimana è costanza è costanza se streami tutti i giorni e poi a un certo punto per 6 mesi sparisci quella non è costanza ma non bisogna fare così infatti non è questo il metodo giusto per lavorare ma ci vuole vacanze ferie eccetera se invece per paura che i sub vadano giù giorno dopo giorno perché effettivamente quello che succede su Twitch inizia a ossessionarti alla costanza che non è più costanza ma è solo appunto ossessione allora iniziano a sorgere i primi problemi ma andiamo ad un certo punto in questa casa improvvisata perché improvvisata perché io mesi prima stavo facendo dei progetti con delle persone con chi avevo vicino si parlava di convivenza si parlava di futuro si parlavano di posti si parlava di cose e quindi mi ritrovo a un certo punto da solo a dover comunque affrontare i miei problemi problemi di casa problemi di roba a dover ricostruire anche nella mia vita di tutti i giorni quello che poi sarebbe stato il mio futuro tra virgolette e quindi prendo la prima casa che mi capita sotto mano perché altrimenti andavo sotto un ponte detta proprio schietta non sotto un ponte perché vabbè non era un problema i soldi ma era un problema il fatto che da lì a breve avrei dovuto lasciare la casa in cui ero prima io su questa cosa ovviamente ragazzi sto zitto perché non ho niente da dire non metto bocca non so la situazione non mi permette di giudicare e quindi mi sono ritrovato qua dove la sera purtroppo il mio tono di voce deve essere questo se non ha problemi Eulo si disconnette speriamo che tenga in queste ore che faremo lunghe che faremo in stream mi sono ritrovato una miriade di problemi però nonostante questi problemi io sto cercando con tutto me stesso e lo state notando di darvi qualcosa e di dare anche qualcosa a me stesso quindi a fine luglio io vi dissi ragazzi noi ad agosto faremo tante stream tante belle cose e proveremo a ritornare sul pezzo ve lo prometto erano parole che dalla chat da alcuni molti venivano prese così tanto per perché giustamente io di cose ne ho dette veramente troppe nella mia vita e quelle che ho fatto probabilmente non sono state neanche un decimo o due decimi di quelle che effettivamente dico ne dico tante ne faccio poche e non ne faccio poche perché sono incoerente ne faccio poche perché purtroppo sono un ragazzo e non lo dico tanto per sono un ragazzo no no l'ossessione è negativa se è positiva allora l'ossessione non è la parola giusta sono d'accordo Branduardi Cantel non confondete le parole l'ossessione ha un'accezione negativa almeno io gliela do non sono così ossessionato dal mio progetto Disney Cantel da 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 rinnegare la mia dignità o da ammazzare la mia personalità non l'ho mai fatto in questi otto mesi lavorare con costanza e professionalità e con stacanovismo comunque non è ossessione è un'altra cosa la perseveranza è diversa dall'ossessione l'ossessione è proprio quando ti annulli annulli la tua personalità annulli il tuo carattere ti fai mettere i piedi in testa pur di raggiungere l'obiettivo e non va bene perché poi vai nel burnout poi non ti riconosci più allo specchio scatta la depressione e tante altre cose di cui abbiamo parlato molto empatico quando mi accadono cose forti nella vita non riesco a dividerle da quello che poi è il lavoro e quindi mi si mischia tutto e mi deprimo e tante volte anche per semplici frasi che mi sono state dette da amici da parenti da cose eccetera eccetera io mi butto giù cosa che non dovrebbe succedere uno dovrebbe sempre seguire la propria vabbè non è empatia come diceva anche Diego ha sbagliato parola vabbè ma sarà emozionato l'empatia è quando appunto riesce a interfacciarti bene con le persone talmente tanto che riesce a capire quali sono i loro sentimenti in quel momento e a empatizzare con loro cioè a essergli vicino a interpretarli e tutto il resto forse sei un romantico un sentimentale un sensibile quello in quel senso vabbè soprattutto non guardare le critiche che ti vengono dette perché poi in mezzo a quelle critiche ci sono anche tante cose positive che i ragazzi cioè voi mi dite e io guardo invece sempre il marcio che mi viene detto perché comunque si sa ma il tryharding che potrebbe essere interpretato come stacanovismo all'italiana o come che cazzo ne so è diverso all'ossessione ma io voglio fare un altro discorso non volevo parlare di stacanovismo oggi ragazzi in realtà ma ci arriviamo fra poco quindi io ho dato il meglio di me nel mese di agosto dimostrando che comunque io mi reputo molto molto capace adesso ne ho la conferma perché io non so qual'altro streamer ok quale altro streamer dopo mesi e mesi che non streamava ok e non è un vanto eh anzi dopo un mese e mesi che non streamava in un mese ci abbiamo messo un mese e una settimana per fare 10.000 sub sapete ad oggi quante persone hanno 10.000 sub su twitch tre persone tre ok quattro forse non lo so soprattutto il maestro che è stato negli anni sempre costante dalla mattina alla sera cioè no dalla mattina alla sera però tutti i giorni mi sta in stream e quindi è giusto che ce l'ha io è giusto che ce l'ho probabilmente no allora K faccio questa reaction perché sono felicissimo per te sono felicissimo se ti sei ripreso sono felicissimo per questo tuo traguardo però temo che tu stia facendo un errore molto grande e che questo errore poi ti porti in una sorta di fase dove poi il cane si morde la coda un uroboro di numeri che ti porterà un po' a sbarellare fra circa un mesetto perché in realtà è già successa questa cosa su twitch è successa a Cydonia è successa a Manuxo cioè hanno fatto queste grandi live queste grandi maratonine o quel che è ponendo un obiettivo alla loro community stimolandoli a donare a partecipare a questo obiettivo comune e sono arrivati a 10.000 sub però poi cosa succede dopo un mese quei sub scadono perché in questa tua maratona te hai totalizzato una roba come quasi 7.000 sub regalati ed è pericoloso considerare questa roba come eh ve lo sono meritato chi è che è riuscito a fare 10.000 sub c'è questa roba di auto incensarsi può essere rischioso fra un mese quando poi quei sub scadranno e te ti ritroverai spaventato perché ti sembrerà che il pubblico ti ha abbandonato sembrerà che il terreno ti sia finita sotto piedi io temo questo temo l'autodistruzione secondo me il punto cap è che devi puntare ad avere un pubblico fidelizzato talmente tanto che quei 10.000 sub ce li hai sempre ce li hai con costanza e per fare questo ci vuole una fatica del diavolo ci vuole costanza è vero ma ci vogliono anche dei contenuti che non siano mordi e fuggi che non bruscino come un fuoco di paglia per raggiungere il grande obiettivo e fare la storia di Twitch ma ci vuole una qualità dei contenuti nel tempo però non è quello il punto il punto è che devi stare attento devi stare attento perché adesso hai trovato in Twitch la tua ancora di salvezza il tuo modo di essere felice il tuo modo di rinascere ma rischi anche che questa cosa ti torni indietro come un boomerang e non voglio perché queste robe fanno male quando io feci quella battuta a Manuxo che fu fraintesa da Manuxo intendevo proprio quello cioè era una battuta molto affettuosa nei confronti di Manuxo forse avrei dovuto fare quel discorso invece di fare una battuta ma pensavo la capisse perché è molto ironico in realtà Manuxo quando vuole e dissi ma non ti preoccupare è normale le sub regalate scadono perché esattamente dopo poco di un mese vedevo Manuxo un po' giù perché quelle 10.000 sub erano andate via c'erano altri numeri e tutto ma è una cosa normalissima è come quando io feci la maratona arrivai a 60.000 sub e tutti oddio 60.000 sub oddio oddio dissi ragazzi basta non c'è cioè è bello bellissimo il record è tutto ma fa un mese siamo punti a capo torna tutto come prima infatti torna tutto come prima bisogna sempre stare con i piedi per terra ma non è quello il punto ma credo però che abbia fatto una maratona solo l'ultimo giorno ragazzi amori miei non stiamo parlando di quello stiamo parlando di interpretare e anticipare ed evitare problemi che in questa era di numeri intossicano le persone e se mi dite no ma aspetta perché qui sub li ha totalizzati vuol dire che ci siete dentro anche voi e non avete idea di quante persone mi scrivono ha fatto quello quello ha raggiunto 10.000 vabbè poi per attenzione spettatori perché quello ti ha superato diventa faticoso diventa deleterio e mi dispiace che queste cose le abbia detto in maniera molto più rude Diego e sia stato attaccato perché è rosicone ora ci sono io che non ho bisogno di rosicare assolutamente e quello che però posso dire come consiglio affettuoso al K stai attento stai attento perché la narrativa del successo la narrativa del numero la narrativa del avete visto che non ne abbiamo fatto poi rischia di essere un boomerang perché ti autoconvinci che sei il numero uno che hai fatto 10.000 che ti hai adesso ma una volta l'hai detto scherzo K ma mi hai detto voglio arrivare a 10.000 così Dario poi può parlare con me e io ho risposto con un'altra battuta dicendo io non è che sono un saian che valuto le persone con gli scouter non hai un numero sopra la testa io interagisco praticamente solo con streamer piccolissimi o piccolini o medi in un mese ho fatto quello che persone fanno in anni significa che effettivamente quello che faccio lo faccio bene e basta nascondersi dietro ai contenuti dietro alle cose perché io c'ho io non voglio né flexare né fare niente ma io se mi metto lì seduto ok a scaccolarmi il naso probabilmente probabilmente farei molti più numeri di persone che magari se scrivono il format e se cosa no perché sapete cosa ho capito col tempo che ognuno c'ha chiamamolo talento non lo so su questo purtroppo K non sono d'accordo ma non potrò mai essere d'accordo perché spesso questi contenuti senza delle fondamenta senza un pensiero dietro rischiano di poi sgretolarsi quando la gente si è rotta il cazzo del carnevale pito il carnevale non gliene frega più niente a nessuno e tutti tornano ad altro e al prossimo contenuto mordi e fuggi invece prendici a Marco lui in realtà sembra viaggiare così sempre a vista forza andiamo di là ma in realtà no no fa quella roba da anni e la gente lo segue da anni proprio perché fa quella roba lì la fa in una determinata maniera la fa con un determinato modo di fare quei giochi che tutti amano quel modo di fare quei giochi che tutti amano quelle battute quell'ironia e quindi funziona funzionerà sempre è un caos ordinato esatto quindi non è che sta lì e si scaccola e Gianmarco ci tiene tanto a dirci che in realtà no ma io ma in realtà non è vero il pomeriggio si si organizza però si organizza in una maniera che funziona però si organizza omi era uguale sì alle persone effettivamente magari gli regalo una magia sapete qual è la magia che abbiamo la magia che abbiamo è che quando stiamo qui su twitch voi vi rendete conto quanto è bello passare del tempo insieme e quanto è importante stare spensierati perché penso che sia questa la formula io quando attacco la stream per me non è lavorare perché se era lavorare io non quittavo perdendo l'opportunità di guadagnare centinaia e migliaia di euro io continuavo a stremmare ma se a volte non stremmo non è perché non vi voglio bene non è perché ce l'ho con qualcuno di voi ma è perché il problema è qua dentro e quando hai problemi in testa e ce l'hai grandi e sopra e a volte purtroppo sopra com'è che si dice sopra 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 qualcosa sopra ok non mi vengono neanche più le parole ok sopravvalgono a tutto quello che c'è dietro e questo è il motivo per il quale io a volte vado in depressione o chiamiamola come se vuole perché è quello non è che c'è da chiamare in un'altra maniera bisogna avere paura veramente cioè voi non sapete quello che mi sta accadendo quest'ultimo mese e mezzo ok voi non ve lo so neanche qui a raccontare però c'è mia nonna che sta più della che di qua e ancora che devo sistemare cose burocratiche sto cercando a casa per andare via sto cercando andare via dall'italia sto cercando e fare tante cose però come avete visto ogni giorno sto cercando anche di essere stream e di passare 7, 8, 5, 4, 10, 12, 24 quello che so ore spensierate quando i ragazzi mi scrivono capo grazie per tenerci compagnia no grazie a te grazie a voi che mi tenete compagnia perché in certi momenti se io non avessi avuto delle persone in chat che che mi che mi tenessero che mi tenessero effettivamente compagnia io non so dove sarei ora onestamente anche la prima relazione che ho avuto quando sono stato tradito la prima cosa che ho fatto è stato mettere delle storie su Instagram per cercare supporto delle persone che mi seguivano perché io ho solo voi e pochi amici pochi altri amici questa roba qua va benissimo capo è bello trovare una sorta di legame con la community e esprimere la tua gratitudine però occhio perché facendo così attivi in loro e attivi in te stesso un rapporto parasociale molto pericoloso perché poi appunto quando quel pubblico lo vedi calare o lo vedi da altre parti oppure ti auguro ovviamente ogni bene lo vedi sempre lì comunque puoi effettivamente avere uno scombussolamento emotivo e loro allo stesso tempo dicendo di questo io ho solo voi pochissimi altri amici possono vederti effettivamente come un fratello maggiore un un amico su cui contare ma non è e poi effettivamente così K perché sappiamo bene quanto siamo incasinati quanto le nostre vite possono essere complesse da gestire quindi è difficile poi gestire una comunità così grande essere amici di tutti quasi è improbabile quindi stai attento stai attento il disco poi sei emozionato quindi ti si perdona tutto ci mancherebbe però ci tengo a dirlo perché tengo questa piattaforma no tengo più a certi colleghi di questa piattaforma ed è importante secondo me sensibilizzare il pubblico anche a questo so che mi potevo fa cazzi mia e potevo evitamm le offese su tiktok anche questa volta però sono una sorta di mamma chioccia in questo caso sono una persona che porta avanti le battaglie praticamente inutili però soprattutto in questo periodo qui però mi piace parlare di questa roba qua perché penso sia una piaga tutta sulle nostre spalle e tutta sulle spalle soprattutto delle nuovissime generazioni mi preoccupa tanto perché questo pubblico l'ho visto crescere in questi 15 anni circa di web e l'ho visto anche trasformarsi in maniera bislacca quindi è giusto parlarne secondo me perché per me le persone che guardano sono persone e quindi quando io sto male e mi rendo conto che non riesco a darvi del contenuto come lo voglio fa io quindi non riesco a darvi quel divertimento quella spensieratezza che solitamente do io non stream è questa la verità perché se io fossi stato un ragazzo attaccato Diego ha parlato in realtà solo delle robe di twitch non delle robe personali grillo puoi andarti a vedere tranquillamente però dio denaro un ragazzo che gli importava solo esempio dei numeri o di tante altre cose io mi facevo una bella pasticca di xanax o un antidepressivo mi prendevo qualcosa e attaccavo la stream e facevo finta che tutto andava bene la verità è che non riesco a far finta che tutto va bene è appunto proprio per questo K io ti ripeto questo stai attento perché sta roba ai 10.000 sub abbiamo fatto la storia voglio arrivare ai 10.000 sub forza ce l'abbiamo fatta eccetera siccome è praticamente improbabile che i sub regalati rimangano stabili e in un mese svaniscono come neve e il sole stai attento K stai attento abituati a creare una community pulita che si affeziona a te che si intrattiene con le tue cose perché conosce bene quello che fai ingegnati fai sempre qualcosa di nuovo rendi imprevedibile quello che fai e avrai tante tante soddisfazioni perché è meglio avere 4.000 sub stabili fidelizzate persone che ti seguono che ti vogliono bene qualsiasi cosa tu faccia che 10.000 abbonati effimeri perché poi ti possono arrivare tra capo e collo senza nemmeno che te ne accorgi e farti stare male di nuovo quindi stai attento adesso uno vorrebbe dire allora perché adesso ce la fai e prima no perché ma perché cazzo ne lo dici in privato non capisco bene te lo ripeto per la terza volta credo perché credo che questa roba dei numeri come lui ha parlato pubblicamente di queste cose o sbaglio o me l'ha detta in privato a tutti loro non penso l'ha parlato in pubblico ne parlo in pubblico anch'io e perché credo che il problema dei numeri e dell'ossessione per gli stessi sia un problema effettivamente non solo di noi ma soprattutto del pubblico perché vedo sempre più gente ossessionata che non fa assolutamente questo lavoro e che non lavoro proprio col web ossessionata dai numeri altrui dai suoi numeri nei loro social e siamo alla terza volta che lo dico numeri soldi soldi numeri soldi numeri podcast sui numeri podcast sui soldi è tutto sugli oggetti flexare cose macchine orologi bam 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 tutto il tempo tutto il giorno tutti i giorni non va più bene e io spero che questo trend si riparti e mi sto cercando di mettere al primo piano sto cercando di mettere Alessandro in questo caso parlo Alessandro o Michele Misserio Massimo Bossetti come preferite sto cercando di mettermi al primo posto quindi sto pensando a me stesso per una volta nella mia vita questa è la verità e sembra funzionare sembra funzionare e ci sono tantissimi nuovi ragazzi tra di voi io sono contento che mi abbiano scoperto meno contento per le loro probabilmente condizioni fisiche mentali psicoterapeute o quello che è perché probabilmente se mi seguite da qui a qualche anno diventerete scemi al 100% o completamente ritardati a me sembra a volte che sia tu quello che ne parla di più di numeri e sub ok non sono per niente d'accordo però se mi trovi questi numerosi momenti dove ne parlo ti do ragione ma non me li ricordo sinceramente e magari vi ricevete anche la pensione dell'Inps e e niente questa è all'incirca la mia storia degli ultimi anni quindi noi a distanza di due anni abbiamo ridaggiunto un obiettivo che non è un numero ma è una mia cosa personale è una mia soddisfazione personale alla faccia ok De Kim ha sempre detto e fai quel e fai quell'altro e destra e sinistra io faccio le cose giuste che possono essere opinabili dalla gente perché io le critiche sono sempre ben accette se fatte con oggettività però l'oggettività è che noi in un mese e poco più abbiamo rifatto 10.000 sub partendo da 400 sub perché io il 31 luglio quando ho fatto vedere cosa il 30 luglio avevamo 400 sub quindi vuol dire 10.000 sub in poco più di mese e chi è che le fa 10.000 sub poco più di mese ripeto Manux sai domina tantissimi altri l'hanno fatto stai attento non ha streamato per 7 mesi pochissime persone vabbè comunque complimenti ci mancherebbe quindi grazie a tutti quelli che me stanno guardando grazie a tutti quelli che ci stanno supportando perché per supportare uno streamer non serve donana sub poi se me la doni grazie perché i soldi lì verranno spesi in troia e quindi ti ringrazio doppiamente però anche solo tenendo la stream aperta anche solo guardando eccetera eccetera tu comunque già mi stai dandole il supporto e non perché te guardi le pubblicità chi ti supporta con Core Prime donando una sub o due bit dicendo grazie per la compagnia ovviamente sono sempre apprezzato e grazie grazie per questo traguardo che prima di essere mio è vostro e sembrano quelle parole tipo no è vero perché comunque in questo discorso Dario magari sbaglio ma vedo un attacco da parte tua diretto a Frene ok Hotmine siccome me l'hai già fatto sto commento prima mi puoi mandare la clip dove attacco direttamente Frene perché non me lo ricordo so che ho una memoria corta ma sto streamando da 48 minuti non ricordo di averlo attaccato mai anzi lo sto cercando di proteggere consigliare certo lui potrebbe dire ma che cazzo sei vaffanculo ci mancherebbe però io posso fare tantissime belle cose ma poi effettivamente anche altri streamer fanno belle cose ma magari non hanno lo stesso riscontro che abbiamo noi quindi il grazie metà del lavoro è vostro e niente regà io spero che questo sia solo l'inizio di tante altre belle cose che io sto cucinando che sto facendo come ve ne spoilerò qualcuno a un nuovo format a fine settembre barra inizio ottobre che io stesso ho scritto allora vedi allora top allora l'hai capito ve lo giuro su mia mare la verità come una stream che farò a Barcellona il 21 barra 22 che approfitterò di un placement che devo fare per fare una stream con Martina che vedrete dove probabilmente ci saranno anche dei qua volerà qualcosa in capoccia come tante altre belle cose che sto cucinando perché quando io in questo periodo non stream quando voi non mi vedete in stream ok io sto lavorando per fare cose sempre inerenti alla stream cosa che prima non facevo perché attualmente l'unica cosa che ho in testa che mi fa stare bene è stare in stream e stare con voi ok il prossimo passo secondo me è stare bene anche fuori è la cosa più bella del mondo non hai idea di cosa c'è là fuori è impossibile però adesso non lo puoi vedere perché c'è questo muro nero questa coltere di nebbia che ti infesta ed è normale affrontarla ma non è un trend purtroppo è sempre stato così quando andavi tu alle medie non avevi compagni fissati con i vestiti di marca sì se chiedi ai tuoi non ti diranno che c'è una persona ma me lo ricordo anch'io il problema profondo e radicato non è questione di nuove generazioni è questione di nuove generazioni perché a differenza di quando io andavo alle medie adesso ci sono i social i social coinvolgono i numeri e i numeri a differenza i canti sono molto più tossici e non lo dico io ma psicologi e psichiatri stanno e anche sociologi stanno affrontando il problema da qualche anno e ormai un po' tutti sono d'accordo nel dire che i social creano dipendenza e danno una percezione errata sbagliata completamente sballata della tua personalità e bisognerebbe iniziare a parlarne e bisognerebbe iniziare a rendersi conto di quello che sta succedendo punto e a capo puoi dare un'occhiata al canale Paperinicchitalia su youtube Emanuele adesso che prendo una pistola e mi sparo in bocca Emanuele